Viene presentato questo cortometraggio che parla della solitudine dei giovani dopo il covid, cortometraggio di un regista pescarese. Sociale vuol dire anche questo, non vuol dire soltanto aiutare le persone in senso materiale, ma vuol dire anche pubblicizzare determinati cortometraggi che parlano appunto della solitudine nel post covid. Tanti figli nostri, tanti ragazzi che già erano dipendenti del cellulare sono diventati adesso drogati di cellulare appunto perché il covid li ha confinati in casa e questa situazione di fatto ovviamente non tarda a diminuire. La psichiatria infantile è piena di ragazzi curati e quant'altro per cui il mio amico Antonio Di Luca che è il regista di questo film ha pensato bene di girarci un film per cercare di far capire ai ragazzi che probabilmente bisogna ripartire non solo dal punto di vista lavorativo e quant'altro ma anche dal punto di vista sociale. Com'è nata questa idea di girare questo cortometraggio intitolato Soli? Dalle varie esperienze di vita raccontate dai giovani, io parlo molto con i giovani, molto con gli adolescenti e il fatto di ascoltare appunto le loro esperienze mi ha portato a parlare in modo indiretto, quindi tramite progetti, ne abbiamo fatto l'anno scorso con il bullismo e quest'anno invece con la solitudine adolescenziale, questo è un fenomeno che purtroppo col covid ha preso sempre più piede. Questi due ragazzi, questi attori in erba, come si sono comportati? Molto molto bene, oltre le aspettative, quindi davvero ragazzi spettacolari.